Buon pomeriggio e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV. In primo piano ci sono le novità dal Consiglio dei Ministri, targato Giorgia Meloni, che oggi si è riunito, poco fa si è conclusa la riunione e secondo le prime anticipazioni è arrivato lo stop a partire da domani, primo novembre, all'obbligo vaccinale anti-covid per medici e professionisti del mondo della sanità. Stabilito proprio l'esecutivo che ha preso decisioni anche in merito al decreto unico sui rave party e sul carcere ostativo. C'è poi il rinvio al 30 dicembre dell'attuazione della riforma cartabia tra le misure decise dal governo con il decreto riforma sulla giustizia. Per quanto riguarda poi gli ulteriori dettagli, ci sarà una conferenza stampa convocata per le 16.30 dalla Premier assieme ai ministri Piantedosi, Nordio e Schillacci. Per quanto riguarda in particolare i rave party è stata prevista una reclusione da 3 a 6 anni con multe da 1.000-10.000 euro e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di 50 persone allo scopo di organizzare un raduno dal quale si possa derivare dei pericoli per l'ordine pubblico e la pubblica incolumità o la salute pubblica. Questo si legge nella bozza del decreto. C'è stato anche il varo dei sottosegretari di governo, andiamo a leggerli in tempo reale, con la nomina di Vittorio Sgarbi, sottosegretario della Cultura, poi Gian Battista Fazzolari di Fratelli d'Italia, sottosegretario dell'attuazione del programma, Maurizio Leo, viceministro all'economia, Isabella Rauti, sottosegretario alla Difesa, Alberto Barachini, sottosegretario all'editoria, Paola Frassinetti, sottosegretario della pubblica istruzione, Nicola Molteni all'interno, Francesco Paolo Sisto, viceministro alla giustizia, Andrea Del Mastro e Andrea Ostellari, sottosegretario alla giustizia, Valentino Valentini allo sviluppo economico, e poi tutti gli altri via via stanno per uscire, ci dovrebbero essere anche le parlamentari del Friuli Venezia Giulia, Vanni Agava e Sandra Savino, ulteriori aggiornamenti e novità nelle prossime edizioni. Ora passiamo alla cronaca con l'autopsia per quanto riguarda Liliana Resinovic, che è deceduta per morte asfittica tipo spazio confinato, senza importanti legature o emorragie presenti al collo. Il decesso risalirebbe a 48-60 ore circa prima del rinvenimento del cadavere stesso. Queste le conclusioni dei consulenti del PM Fulvio Costantinides e Fabio Cavalli, incaricati dalla Procura di Trieste, di indicare l'epoca della morte e le cause che l'hanno determinata, la cui consulenza è stata depositata come reso noto in un comunicato alla Procura della Repubblica. La Resinovic, ricordiamo, scomparve di casa a Trieste a metà dicembre dello scorso anno, il corpo fu ritrovato poi il 5 gennaio. La Procura non ha ancora deciso poi se chiudere le indagini sul caso, se disporre ulteriori accertamenti per non lasciare nulla di intentato. Questo secondo una nota diffusa dal procuratore capo De Nicolo, che puntualizza quanto è emerso dalla consulenza. Senza indizi sull'azione di terzi rimane in piedi solo l'azione volontaria, ma il procuratore non è ancora giunto ad una conclusione. Ancora cronaca, il corpo senza vita di un uomo è stato trovato stamattina in via Pozzuolo a Udine, in prossimità del CERT, alcuni passanti avevano segnalato una persona esanime a bordo strada, gli infermieri della Soles giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, colto molto probabilmente da malore sul posto anche la polizia locale. E poi ancora interventi da parte dei sanitari del 118 nella zona di Passo Pura ad Ampezzo, in Carnia, dove un uomo che stava camminando lungo una pista forestale ha accusato un forte dolore toracico, un principio di infarto, è riuscito comunque da solo a chiamare i soccorsi, sul posto è arrivato l'elissoccorso e un'ambulanza del 118, l'uomo è stato trasferito in codice giallo al Santa Maria della Misericordia di Udine. Stamattina invece a Gemona del Friuli, incidente in via Glesiute, con un'auto e una moto coinvolte, la persona che viaggiava in sella alle due ruote è stata sbalzata per 10 metri e ha riportato lesioni severe. Dopo la chiamata di aiuto, gli infermieri della Soles si hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza ed è stato trasportato in ospedale al Santa Maria della Misericordia di Udine. Andiamo a Gorizia ora dove c'è stato un intervento da parte dei vigili del fuoco del comando provinciale in una zona boschiva in località Gradiscutta per il soccorso ad un giovane infortunatosi a causa di una caduta con la bicicletta. Una volta raggiunto l'infortunato è stato stabilizzato e caricato su un'ambulanza trasferito in ospedale a Gorizia. Un aggiornamento ora rispetto alla notizia diffusa stamattina su uno sversamento avvenuto a San Giorgio di Nogaro nel porto canale nella zona dell'Ausacorno. Nella notte attorno alle 2.30 è stato avvertito un forte odore di gasolio e la capitaneria di San Giorgio e Porto Nogaro assieme ai vigili del fuoco e la protezione civile hanno subito posizionato in acqua sei panne per contenere lo sversamento che ha interessato un'area di circa 50 metri. L'Imitrof a Porto Margret si tratta di un canale parallelo a via Fermi. Le operazioni sono riprese stamattina e continueranno anche durante il corso della giornata per verificare la gravità della situazione e la tipologia di sostanza che è stata sversata. Ora a Pordenone dove nella notte di domenica gli agenti delle volanti e della squadra mobile hanno fermato per furto aggravato e ricettazione in concorso due giovani albanesi, un 25enne e un 27enne, trovati in possesso di refurtiva rubata a seguito di una serie di colpi avvenuti nella città. La Questura informa anche i cittadini che hanno subito furti in abitazione che possono recarsi negli uffici con la denuncia del furto per recuperare i propri beni. Ed ora la pagina economica con il primo bilancio rispetto alle richieste dei fondi messi a disposizione dalla Regione per le piccole e medie imprese sul fronte del caro energia. Sono 12.234 le domande ammissibili pervenute alla Regione per beneficiare del bando ristori riservato alle micro, piccole e medie imprese che nel primo semestre dell'anno hanno subito rincari superiori al 30% dei costi dell'energia elettrica. In totale si tratta di un importo complessivo di 13.178.000 euro di cui oltre la metà destinati ai settori del commercio, della ristorazione e dei servizi alla persona. Obiettivo di questa misura era di dare una risposta alle imprese colpite dal caro energia in tempi rapidi e senza eccessiva burocrazia. Possiamo dire di averlo centrato, ha commentato l'assessore regionale all'attività produttive Sergio Emidiobini. I contributi saranno erogati rapidamente attraverso il Cata, il centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane e il Cat FWG, il centro di assistenza tecnica alle imprese del terziario. L'importo dei ristori varia a seconda della dimensione dell'attività. Le micro imprese riceveranno 1.000 euro, le piccole 1.500 e quelle di medie dimensioni 2.000. Queste risorse, ha chiarito l'esponente della giunta a Fedriga, andranno a vantaggio soprattutto delle micro imprese, vale a dire quelle con meno di 10 dipendenti, che rappresentano l'85% delle domande pervenute. Il sostegno, ha specificato l'assessore, continuerà per tutto il comparto, in quanto nella manovra di assestamento BIS sono già stati messi a disposizione dei confidi 5 milioni di euro per favorire l'accesso al credito. Inoltre, le risorse avanzate dal bando ristori saranno impegnate in una nuova linea contributiva dedicata sempre a chi ha subito i rincari dell'energia, compresi i proprietari di piscine e impianti termali. L'assessore Bini ha partecipato nei giorni scorsi anche all'inaugurazione di una nuova rotatoria che è stata realizzata in comune di Pavia di Udine. Un intervento importante, realizzato a tempi di record, tra le vie Aquileia e Crimea, lungo l'extra la provinciale 78 che collega Pavia di Udine alle zone industriali di Manzano e San Giovanni a Nattisone. Assessore, un'opera importante per il territorio, soprattutto per la sostenibilità e anche per il traffico, ma non solo, anche per l'attrattività dei nostri paesi. Voglio sottolineare una cosa importantissima, al tempo di realizzazione, un record in 150 giorni si è realizzata un'opera, come diceva lei, importante per il territorio. Questo ha dimostrazione di quanto l'amministrazione regionale Friuli Venezia Giulia Strade assieme al comune di Pavia di Udine ha lavorato bene, efficienti, efficaci e soprattutto in grado di garantire alla comunità, non solo di Pavia di Udine, ma insomma a tutti gli automobilisti del Friuli Venezia Giulia sicurezza, qualità e bellezza. Altra inaugurazione stamattina a Tarvisio dove il sindaco Renzo Zanette è intervenuto per il taglio del nastro nel nuovo museo per l'attività doganale al Valico di Coccau. Con il nostro Francesco Colussi ha fatto anche il punto rispetto a diversi interventi sulle opere pubbliche che interesseranno la comunità di Tarvisio nei prossimi mesi anche in vista dell'appuntamento con Eioff. Noi come amministrazione comunale stiamo lavorando in collaborazione con la regione per preparare quello che sarà il grande evento dell'inverno, l'Eioff e le Olimpiadi giovanili che verranno fatte a Tarvisio lo sci alpino, la combinata nordica e stiamo realizzando delle opere proprio in funzione di quel grande evento. Ricordiamo anche che Tarvisio si sta preparando per un grandissimo evento che sarà quello del 27 maggio con la crono scalata del Montelussari, Tarvisio Montelussari, per la penultima tappa del Giro d'Italia. Credo che attraverso questi eventi riusciamo a portare nel nostro territorio non solo tantissimi ospiti ma anche fare una grandissima promozione del nostro territorio a livello internazionale. Andiamo ora a Flambro dove si è svolta la cerimonia in ricordo dei 250 granatieri che nel 1917 si sacrificarono per rallentare l'avanzata dell'esercito austro-tedesco un'occasione per far riflettere i giovani sul valore della pace e della conoscenza del passato. Ricordare eventi come la battaglia di Flambro significa essere ancorati alla nostra storia, alla nostra identità, ai valori rappresentati da fatti che segnarono l'unità d'Italia e quanto è stato rimarcato in occasione della cerimonia ricordo degli oltre 250 granatieri che 105 anni fa si sacrificarono per rallentare l'avanzata dell'esercito austro-tedesco dopo Caporetto e permettere così alla terza armata di riorganizzarsi sulla destra Piave. Il comune friulano non ha mai dimenticato l'accaduto come sottolineato con forza parlando in prima persona ai giovani. Oggi quei sacrifici devono ricordarci che con la guerra non si risolvono i problemi della convivenza civile, la pace che anche in Europa dobbiamo perseguire, bisogna che anche nel conflitto russo-ucraino ci sia un cessate il fuoco e ci sia la possibilità di un confronto che porti le popolazioni a riprendere quella convivenza civile di cui i nostri giovani e le nostre comunità hanno bisogno per guardare con speranza al futuro. È una data importante per i granatieri nella loro importante storia di oltre 365 anni ma è una data importante per la comunità di Flambro che si unisce proprio in quel 30 ottobre 1917 dove un manipolo di granatieri cercò di darci ancora un po' di luce in quelle giornate già buie che prevedevano ormai l'invasione delle nostre terre e soprattutto della comunità. I nostri giovani dovrebbero non imparare vivendola ma andando a cercare le fonti più giuste, quelle che hanno vissuto, chiedendo sulla pelle di chi ha vissuto, leggendola oppure guardando la televisione è un po', però sulle testimonianze viventi quelle sì. Ci spostiamo ora a Pordenone per la polemica su Ponte Meduna tra il sindaco Ciriani e il consigliere regionale Conficoni. Dopo che la regione aveva annunciato altri 11 milioni di euro oltre i 24 già stanziati per far fronte all'aumento dei costi sul rincaro delle materie prime, la vicenda del Ponte sul Meduna, come la descrive il sindaco Alessandro Ciriani, sta assumendo dei contorni grotteschi e incomprensibili. Nei giorni scorsi il primo cittadino era ricorso ad un post Facebook per sottolineare il costante e intenso lavoro da parte dell'amministrazione con la regione per ottenere i soldi mancanti e dare avvio all'iter. Una collaborazione aveva scritto il sindaco che solo chi è in mala fede può negare o fingere di non sapere, dato che da parecchi giorni filtrava tra la stampa la notizia che Fedriga e la sua giunta avrebbero onorato il patto con Pordenone e in comune si attendeva solo l'ufficialità. Una comunicazione definitiva dunque che il sindaco sperava mettesse a tacere una stagione di polemiche e rimpalli di responsabilità per lasciare, come ha continuato sulla sua pagina social, spazio alla soddisfazione di aver fatto un passo importante verso il miglioramento della rete infrastrutturale e logistica pordenonese. Eppure a vanificare l'ottimismo del sindaco è arrivata la risposta del consigliere comunale e regionale del PD, Nicola Conficoni, che avrebbe riportato agli stessi dem il merito per aver ottenuto il finanziamento aggiuntivo grazie al nostro emendamento, si legge sulla pagina Facebook del consigliere, che ha messo in difficoltà la maggioranza obbligando la dichiarazione impegnativa per il futuro mai pronunciate prima. Un'opera rimasta ferma per troppo tempo, a causa, ha continuato con Ficoni, di una gestione tanto irresponsabile quanto spregiudicata, che ha privilegiato l'immagine sulla sostanza. Il cantiere infinito della Bretella Sud e lo stallo della Gronda Nord confermano come alle tante parole non sono seguiti i fatti concreti, ha concluso il consigliere, sottolineando come costante sarà il monitoraggio sulla questione. Noi ci fermiamo qui, vi ricordiamo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Udinese TV, torneremo live alle 19 con il nostro TG Sportivo, seguito dall'edizione serale del TG News 24, alle 20.50 lo speciale dedicato all'Udinese Primavera, alle 21 l'anteprima del Tonighta con la voce dei tifosi dopo la trasferta di Cremone, poi alle 21.15 con Giorgia Bortolossi, l'appuntamento per fare il punto della situazione in casa bianconera con i nostri opinionisti, gli ospiti e le voci della post partita. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio. a tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.